Ed ora la cultura, il teatro, Silvio Stacesi e Almanzoni di Roma con la divertente commedia Alla larga dalle donne o no? Vediamo. Ma le donne sono davvero fonte di ogni guaio per gli uomini? A questo scherzoso dilemma risponde comicamente il protagonista della commedia Alla larga dalle donne o no? Riapparso in famiglia dopo una lunga assenza, una sorta di fuga dal matrimonio, dall'energetica moglie e dalle donne in genere. Il protagonista, interpretato da Silvio Stacesi, contrastato da Rosaura Marchi, che lo affianca ad alcuni anni, arriverà addirittura a condizionare un ipotetico aiuto al figlio inaspettatamente ritrovato, a patto che rinunci al matrimonio, ignorando che invece è già prossimo a diventare nonno. Su questo spunto da commedia all'italiana si innestano felicemente numerose variazioni satiriche sulla televisione, sulla mania degli oroscopi e delle fatture, sino all'inatteso scioglimento finale in una girandola di equivoci divertenti. Spacesi e Lamarchi interpretano, alla larga dalle donne o no, diretti da Lucio Chiavarelli al Teatro Manzoni fino all'11 gennaio, insieme a Bianca Galvan, Alessandro Angerone e Francesco Biolchini. Va bene, può ruotarli con lui? Lui, lui, naturalmente. Ma no, questo riguarda quell'altro. E dopo lo spettacolo lo so...